Un autentico dramma familiare aveva scosso la tranquilla via Lecrispi a Termo a fine 2023, dove il 49enne Francesco Di Rocco inflisse ben 92 coltellate al padre Mario, un anziano ex capostazione di 83 anni. La terribile vicenda avvenuta lo scorso novembre lasciò attoniti i residenti della zona e il medico legale Christian Dovidio, come riportato dal quotidiano Il Centro, ha svelato i dettagli agghiaccianti del delitto. Secondo l'autopsia, il figlio avrebbe impugnato un coltello da cucina con una lama da 25 centimetri, colpendo ripetutamente il padre, infliggendogli ferite mortali tra la parte alta dell'addome, collo e volto. L'anziano cercò di difendersi, di allontanarsi, ma la furia del figlio è stata implacabile. La dinamica del delitto consumatosi in pochi minuti nella cucina dell'appartamento, sopra la stazione ferroviaria di Teramo, ha lasciato segni indelebili di violenza. Le 92 coltellate, di cui ben 74 al volto, testimoniano la brutalità dell'aggressione, che ha piegato la sommità della lama con una violenza inaudita. Francesco Di Rocco, studente universitario fuoricorso, ha ammesso di aver preso il coltello in un momento di rabbia durante un litigio con il padre. Ha sostenuto di non aver mai avuto l'intenzione di ucciderlo, ma di voler soltanto fare valere la sua frustrazione per l'atteggiamento oppressivo dell'anziano genitore. Nonostante i tentativi della difesa di ottenere gli arresti domiciliari per il figlio, il tribunale del riesame ha respinto la richiesta, citando il pericolo di reiterazione di atti violenti contro altri familiari o soggetti che potrebbero contrariare i desideri del Di Rocco. La procura guidata dal sostituto procuratore Monia Di Marco potrebbe richiedere giudizio immediato per l'uomo accusato di omicidio volontario aggravato sulla base delle prove schiaccianti raccolte durante le indagini.